Musica Musica Benvenuti dietro le quinte in questa puntata per il Garda Jets Festival Olivia Trummer in For You, ospite Fabrizio Bosso Garda Jets Festival, Olivia Trummer con questo bellissimo progetto For You raccontaci di questa nuova idea è un progetto che esiste già da qualche anni e abbiamo fatti tanti concerti insieme soprattutto con il trio e a occasioni speciali abbiamo invitato anche Fabrizio che è il nostro special guest sono le canzoni mie che suoniamo c'è tanto spazio per l'improvvisazione ma soprattutto è un racconto di avere coraggio di fare la sua strada raccontaci delle qualità di questi bravi compagni di viaggio per questo non bastano cinque minuti sono fantastici musicisti che sono felice di aver incontrato incontrata incontrati poco dopo ho iniziato a suonare in Italia con Nicola noi abbiamo fatto tanta strada insieme e abbiamo fin dall'inizio avuto questa chemistry speciale che ci ha fatto anche fare un disco in duo ultimamente è uscito anche per la Warner di Dialogues Delight con Rosario c'è anche e come ci conosciamo da sempre abbiamo anche tre lingue quattro se si conta anche la musica parliamo l'inglese, il tedesco e un po' anche l'italiano è una chemistry anche molto speciale ci troviamo benissimo suono anche nel suo progetto nuovo senza far rumore che è molto bello da ascoltare e Fabrizio è sempre stato una stella ho potuto sentire tanti concerti che ha fatto con il suo quartetto e mi sono conosso ogni volta sempre di più e quando toccava a registrare qualcosa nuovo mio ho subito pensato a lui perché lo sappiamo tutti è fantastico Olivia Trumer le sue composizioni spaziano con naturalezza dalla classical jazz fino alla sfera del singer-songwriter grazie alla voce morbida e versatile Olivia crea un universo unico e intensamente poetico For You, album pubblicato da Warner Music Italy raccoglie il frutto delle esperienze degli ultimi anni pur essendo chiaramente jazz nella sua creazione irradia anche l'immediatezza del pop del gospel e dell'R&B il quartetto esplora e rende sempre più liquidi i confini tra jazz e good pop sorprendendo chi ascolta per la leggerezza della musica e la sua densità profondamente lirica questo è un gruppo veramente forte parliamo adesso di questa splendida cantante Fabrizio quando si crea questa empatia sulla scena qual è il segreto? intanto direi questa splendida musicista perché lei potrebbe essere una meravigliosa cantante è una pianista incredibile ha fatto studi classici ancora sei concertista fai ancora i concerti di musica clara quindi è ancora concertista anche che è una cosa difficilissima cioè riuscire a stare dentro ai due mondi con la sua professionalità e con la sua energia io l'ho prima conosciuta come persona prima che come musicista avrei iniziato a seguirci in poi i concerti poi quando ho scoperto la sua musica il suo talento ovviamente non potevo che essere felice del suo invito tanto a registrare il disco e poi a fare concerti in giro insieme per me è veramente molto bello poi ovviamente avendo due compagni così di viaggio è tutto facile perché la musica viaggia ci conosciamo e quindi diventa veramente bello e emozionante interpretare la sua bellissima musica ad accompagnare Olivia Trummer due fuori classe del panorama jazzistico italiano Rosario Bonaccorso contrabassista con alle spalle 40 anni di attività come leader e come sideman di artisti internazionali il batterista e compositore Nicola Angelucci descritto da Benny Golson come il miglior batterista d'Europa valore aggiunto il suono magico della tromba di Fabrizio Bosso la prima volta che l'ho sentito suonare dichiara Olivia Trummer sono rimasta scioccata dalla sua incredibile tecnica unita alla profondità e alla raffinatezza musicale Fabrizio è una vera fonte di ispirazione C'è un momento di improvvisazione in questo concerto oppure no? E qual è il brano che preferite? Improvvisazione è la parola chiave in questo gruppo chiaramente Olivia compone dei brani meravigliosi delle melodie che rimangono proprio stampate nella memoria e ha la capacità di creare in tutti noi la voglia di intervenire quindi di partecipare emozionalmente e anche con le nostre note siamo qui apposta Dal tuo punto di vista qual è il brano che magari ti preoccupa un po' di più? Sembrano facilissimi all'ascolto il pubblico si diverte la musica piace tantissimo però per noi non sono proprio semplicissimi da suonare i suoi brani è sempre un challenge una sfida una sfida continua però abbiamo fatto tanti concerti insieme quindi abbiamo fatto le prove prima del disco abbiamo fatto il disco e poi abbiamo fatto tanti concerti quindi diciamo che siamo anche più liberi di renderci la vita complicata sul palco Concludiamo una parola per definire il tipo di musica che fa Olivia Profonda e affascinante Io rispondo con una frase di Charles Mingus dico questo che i musicisti bravi e quando c'è la musica è bella riescono a fare in modo che anche le cose che apparentemente sono difficili renderle facili La musica di Olivia è? È Olivia Grazie mille per essere stati con noi adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte Ascoltate la musica che veramente ha il valore di essere ascoltata non sentire la musica non vedere la musica ascoltare e lasciarla toccarti Confermo con un timbro ha detto è perfetto proprio grazie Grazie a voi soprattutto ascoltare la musica deve essere una cosa è una cosa che fa bene alla musica per il futuro oggi abbiamo avuto questo gruppo di ragazzini che sono rimasti con noi durante il soundcheck è stato bellissimo avere questi ascoltatori che vedono anche come noi creiamo la musica è stata una bella iniziativa complimenti Sì tanti complimenti anche all'organizzazione del festival Gaia Gentile, Palazzo Beltrani si conclude questa rassegna jazz a corte Gaia Gentile ma non troppo allora raccontaci di questo concerto Allora è un viaggio è la mia premessa provare a farci un viaggio di emozioni di racconti a partire da quelle che sono le mie canzoni quindi un viaggio nel mio mondo per poi omaggiare artisti che adoro con cui ho collaborato che mi hanno lasciato in qualche modo un segno ma non troppo perché Gaia io credo di essere abbastanza Gaia però quando c'è da dire la dico Nicolò Nicolò Devo confermare o smentire o meno come funziona quest'unione artistica come funziona quando magari ci si conosce meglio c'è un'intesa maggiore quando si suona e si canta insieme oppure no? Assolutamente sì ed è bellissimo perché tu hai veramente la sensazione di stare nell'intimità della tua casetta della tua stanza da letto ma con tanta altra gente per cui poter condividere questa sensazione fantastica perché basta uno sguardo e ci si capisce veramente al volo Qual è quel brano che magari vi ha visti un po' in disaccordo? C'è stato magari un'improvvisazione un momento un'idea oppure no? Ce ne sono state nelle varie prove dai io poverino lo metto veramente a dura prova dai oggi pubbliciamo sui social ah vedi l'ultima che abbiamo fatto mi è piaciuta tantissimo l'ultima canzone di Lady Gaga e Bruno Mars uscita praticamente qualche settimana fa ed è difficilissima tecnicamente Nicolò è un formidabile sassofonista è un bravissimo cantante però io diciamo di principio faccio la cantante quindi lo sfido in queste assurdità però alla fine il risultato secondo me è bellissimo perché nonostante le difficoltà appunto l'intesa a volte vince lo stesso infatti ci siamo ribattezzati Lady Gaga e Bruno Ma parliamo del brano di difficile esecuzione di questa sera qual è? beh io diciamo che proprio me la tiro la difficoltà tecnica perché farò un omaggio a Buck col quale appunto ho duettato con la grande Noah quindi mi ha dato questa possibilità devo omaggiarlo sempre a vita però è difficile poi alla fine del brano ho bisogno di una bombola d'ossigeno quindi c'è questo virtuosismo notevole di Buck ma ci sono dei midley omaggi tipo a Vinicio Caposela che finiscono con una pizzica dove arrivo praticamente morta senza fiato e moio ballo di San Vito Gaia dopo ha bisogno di quei 5 minuti tecnici per bere e riprendersi invece il bis di questa sera avete deciso oppure no? come funziona? o lo improvvisate sul momento? no è improvvisato sul momento e non è detto cioè dipende dalla risposta del pubblico se il pubblico è dalla nostra parte oppure no giusto? e a proposito di pubblico quando c'è un pubblico un po' più difficile come si fa a farli un po' sciogliere? e la gavetta ha aiutato tanto in questo perché ti ritrovi da fare che ne so un tour all'estero dove non hai idea del pubblico e se ti conoscono se si trovano lì per caso se conoscono la tua musica la tua voce ovviamente appunto devi essere pronta a tutto se non è un pubblico facile diciamo ci sono delle tecniche che nel tempo hai imparato un po' a mettere in pratica cercando di coinvolgerlo facendoli partecipare ritmicamente facendo delle battutine che sai che in qualche modo possono funzionare e piano piano si sciolgono se dovesse commentare con la vostra musica un film che tipo di film sarebbe con musica da film con Gaia Gentile e Nicolo noi abbiamo scritto un brano che si chiama come in un film quindi secondo me può essere in realtà vai vai io ho pensato a quella canzone poi scritta con Nicolo sul tema appunto di come in un film parigino il tema è parigino quindi facciamo che chissà un giorno Woody Allen avrà voglia di una colonna sonora ce l'abbiamo già pronta come in un film invece quanto è importante un po' rinnovare con la musica vi siete posti questo problema oggi come si può creare qualcosa di innovativo è un tema molto delicato ed è molto difficile dare una risposta secca però comunque in linea di massima noi cerchiamo di conservare la nostra autenticità ma ovviamente anche con l'aggiunta di suoni magari nuovi suoni un pochettino più ricercati elettronici per cercare di svecchiare si può dire visto che sono vecchio Gaia dice sempre che sono vecchio però si si come si mantiene la tradizione però con un pizzico di innovazione rispettando certo rispettando appunto la verità di ognuno è sicuramente quello di partire da quello che la mente e il cuore ti dice di scrivere su uno spartito sulle note di un cellulare e poi nel momento dell'arrangiamento nel momento di mettere un vestito alla musica che hai pensato così come è venuta chiaramente avere delle delle svolte musicali più elettroniche qualcosa che appunto ci renda un pochettino al posto con i tempi nonostante io ammetta di mio di essere abbastanza vintage come gusti musicali non sono c'è un concerto che non accettereste mai che tipo di concerto è una proposta che non accettereste mai non so se accetterei avrei il coraggio di aprire il concerto dei Metallica lì per esempio credo credo mi tirerei indietro secondo me no secondo me non si tirerebbe indietro anzi che ci prenderebbe gusto perché poi Gaia è così quindi non è accetta le sfide tu sei un tipo che accetti le sfide musicali oppure no sì tanto troppo mi dicono di essere molto versatile a livello vocale quindi come tutte le cose belle ci sono i pro e contro croce e delizia per cui a volte mi cimento in cose assurde dico ma perché perché devo stare sempre con l'ansia della sfida nuova e adesso un consiglio per i giovani io lo dirò sempre non abbiate paura di fare gavetta il successo arriva se lavori nel piccolo sodo quotidianamente lentamente con devozione perché il successo può arrivare facile ma muore se tu prima non lavori e non ti riempi l'armadio di esperienze belle brutte meno brutte bellissime non rinunciate mai al vostro sogno perché perché è la cosa che ci rende vivi e quindi pensare solo all'obiettivo è una cosa che non funziona credete in in ciò che vi fa stare bene grazie mille per essere stati con noi adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte grazie agli spettatori di Dietro le Quinte alla prossima ciao a tutti dietro le quinte ecco questo è tutto per rivedere tutte le puntate www.dietrolequinte.tv.com per le vostre segnalazioni info chiocciola dietrolequinte.tv.com arrivederci alla prossima puntata